Una prima parte di stagione fin qui decisamente positiva per il tennis tavolo nocera, la compagine rossonera si sta brillantemente comportando sia nei campionati regionali che in quello nazionale. In Serie C1 infatti il club del presidente Giovanni Landino è al comando della classifica a pari merito con le due compagini napoletane, Sant'Espedito e Stella del Sud, che si sono presentate ai nastri di partenza come le due squadre da battere. I Molossi però grazie ad un brillantissimo avvio frutto di 5 vittorie consecutive ed una sola sconfitta 5 a 4 contro Sant'Espedito dopo una sfida molto tirata sta spingendo i suoi limiti sempre più avanti anche grazie all'innesto di Alessandro Rosu capace di vincere tutte le 16 partite disputate senza concedere un set. Decisamente bene fin qui anche Francesco Longobardi e Alessandro De Luca che hanno portato a casa rispettivamente 7 e 6 match fondamentali per le vittorie finali. Il team di C1 chiuderà l'anno la prossima settimana in casa contro la quarta in classifica Sorrento Sport che però ha rinforzato il suo organico e si prospetta dunque un'altra sfida fino all'ultimo punto. Il Tettino Cera può sorridere anche nelle categorie regionali in C2 dopo un inizio difficile la squadra formata da Andrea Massinelli, Rosario Bigliardo, Franco Turner e Roberto Ambrosino ha ripreso la propria marcia mettendo a referto due vittorie consecutive che l'hanno allontanata dalle sabbie mobili ma riavvicinata anche alle prime della classe e sorprende positivamente il team di D1 formato interamente dalla cantera nocerina di mister Christian Quofano. I giovani molossi nonostante la difficoltà della categoria hanno portato a casa già ben tre vittorie che premia la crescita costante che stanno avendo allenamento dopo allenamento. Nell'ultima gara vinta in quel di San Michele di Serino spicca la prima tripletta in carriera per il classe 2008 Lorenzo Iovine oltre che un punto a testa per Giuseppe Caso e Gennaro Sica. Chiudiamo poi con la D2, altra piacevole realtà fin qui in campionato. La squadra composta da Raffaele Berritto, Giuseppe Di Lauro, Giovanni D'Ambrosio e Mario Caso è momentaneamente in vetta solitaria del campionato avendo fin qui vinto tutte le partite del girone D. I nocerini che sono a più due dalle inseguitrici TT Aldo Pappalardo e TT Avellino Young concluderanno la propria stagione in casa contro il San Michele Pongo.